Se l'ho dato Gesù Cristo, esiste un cuore della legge di Dio, che è Dio stesso, e cioè l'amore. Ed esiste una serie di regole, di comandi, norme e leggi che per loro natura dovrebbero aiutare a seguire quella che è la sostanza della legge di Dio, l'amore per Dio e l'amore per il prossimo. Normalmente noi vediamo le leggi come una serie di doveri, imposizioni, cose da fare, cose da non fare. Ma ciò che anima invece il comportamento e la vita dell'uomo è il riflesso di ciò che è Dio, e cioè l'impulso al bene, l'impulso dell'amore. E l'amore non è mai ricerca di se stessi, ma è vedere il bene dell'altro, dell'ambiente, di tutto ciò che è creato, che è di Dio e che va restituito a Dio. Questo impulso d'amore è positivo, è creativo, e non si limita a non fare il male per fare il proprio interesse. Ma cerca attivamente il bene in ogni situazione, soprattutto quello che può essere per l'altro, perché la finalità è che tutti e tutto possa essere di nuovo ricongiunto con Dio. Siamo dunque un'umanità che deve tornare a Dio e il nostro stato creaturale è il mezzo, che è l'impedimento che va superato per tornare a Dio. È il mezzo perché è la vita che Dio ci ha dato, è l'impedimento perché nella bassezza della natura lo spirito deve signoreggiare, ma soprattutto della natura inquinata dal peccato che è dentro il nostro cuore. Dunque esistono due modi per guardare e comprendere che cosa sia la legge di Dio. L'uno più esterno è fatto delle norme, l'altro più interno è fatto della propulsione dell'amore. Il fuoco vivo è quello che ci rende vivi e ci rende propulsivi verso Dio, perché dentro di noi c'è questo fuoco ardente che cerca la gloria di Dio e il bene dei fratelli e le cose non vanno mai in contraddizione. Quello che noi dobbiamo vincere dunque è l'identificazione che facciamo con Dio e i Suoi comandamenti con questa struttura di norme le quali diventano uno scheletro che anziché sostenere o guidare o indicare diventano o possono diventare una prisione stretta fatta di norme, di vieti, osservanze, riti, senza cuore d'amore però. Non che noi dobbiamo amare la legge e basta, noi amiamo la legge perché è espressione di Dio. Ma quando questo diventa semplicemente una gabbia esterna e dentro non viene curato ciò che è il fuoco d'amore, l'intenzione d'amore, ciò che è dentro l'anima, che è la sede della capacità volitiva, del volere e dello scegliere sempre tra il bene e il male, se noi facciamo questo abbiamo due rischi, uno che ci venga imposto e dunque per l'insofferenza noi cerchiamo di liberarsene, o il secondo è che noi stessi ce lo imponiamo con la sicurezza che con questo scheletro, questa armatura fatta di comandamenti noi abbiamo sicuramente raggiunto lo scopo della nostra vita. La legge è un aiuto esterno e la legge non deve mai soffocare o illudere il cuore che noi abbiamo. Il cuore è fatto di movimento verso il bene, movimento che non è un movimento verso se stessi, non è un movimento dell'egoismo. Dunque noi potremmo anche apparentemente avere una vita corretta perché come i farisei paghiamo le tasse sulla menta, sul cumino e le altre cose, ma in realtà quello che noi cerchiamo è attraverso le leggi oppure attraverso dei movimenti che aggirano le leggi non fare nulla di illegale, ma fare tutto quello che è possibile a nostro beneficio, a nostro guadagno. Questa non è la legge dell'amore. La legge dell'amore cerca il bene dell'altro, lo crea, lo vede, lo prevede, lo anticipa. Chi invece cerca il bene di se stesso, pur osservando anche esternamente le norme, non osserva, dice Gesù, la giustizia, che è quell'equità della giustezza delle cose. Noi possiamo fare delle cose legalmente irreprensibili, ma lasciare l'altro in uno stato di sofferenza o anche di ingiustizia, perché le norme non coprono tutte quante le situazioni umane. Solamente l'uomo caritatevole, il buon samaritano, va oltre ogni norma per andare alla sostanza delle cose. Quel fratello ha bisogno, quel uomo è mio fratello. E non mi importa delle regole, o di chi io sia, o di chi lui sia, la sostanza delle cose è che un essere umano come me si trova nel bisogno e io lo aiuto. In questo modo, la potenza di Dio, che è la potenza d'amore, passa attraverso di me, tocca il fratello e la gloria di Dio si compie e in noi cresce la statura spirituale. Chi invece si rifugia dietro le norme, che sono anche divine, ma non compie il bene, quello che si chiama anche il peccato d'omissione, lo fa perché il cuore si è raffreddato e le norme servono a giustificare se stessi. Ecco il fariseo che dice sì, bisogna aiutare il prossimo, ma chi è il prossimo distinguiamo perché se devo aiutare tutti non ci siamo. Il mio prossimo sono quelli che la pensano come me, i miei familiari, coloro che io amo, coloro che mi corrispondono e vedi questo passo. Siamo dunque chiamati a scegliere un bivio che è il bivio tra Cristo che dice di essere la legge, la via, il cammino verso Dio che è il fuoco d'amore che ci invade e ci trasforma. E l'altro invece è la via degli uomini che usano anche le cose divine per giustificare se stessi, per fare ciò che gli è più consono, più comodo, più vantaggioso, a detrimento o a dimenticanza di quelle che sono gli altri. L'egoismo si può servire anche delle cose di Dio per giustificare se stesso. In nome di Dio Gesù fu inchiodato in croce. Giustizia è massima iniquità, anzi è in pietà. Sulla croce un uomo condannato giustamente per i propri crimini ammettendo di essere tale di subire una giusta condanna ha però la capacità di un atto di fede nel Cristo, nell'amore di Dio e chiede misericordia. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E quel fuoco di amore del Cristo sacrificato sull'altare della giustizia umanamente interpretata e strumentalizzata, quel fuoco d'amore di Cristo in quella situazione assurda del giusto crucifisso insieme all'ingiusto può dire oggi sarai con me in paradiso. La forza creatrice ricrea il cuore di quell'uomo non solo lo perdona ma lo santifica. Questo è il fuoco d'amore, questa è la legge di Dio, questo è l'amore per il prossimo sopra ogni proprio interesse. L'amore di Dio che vuole questo è questo ciò che Dio Padre vuole realizzato perfettamente dal figlio e il figlio si dice ora siete qui a questa situazione. Scegliete questo amore o scegliete il legalismo. La sostanza o le forme vuote che giustificano per la vostra malizia il vostro cattivo operare dal di dentro dal profondo del vostro cuore dove sono tutte le ingiustizie le iniquità le cose più abominevoli verso Dio. Di che cosa vi volete rivestire? Della giustizia di Dio o delle opere della legge? Della giustizia di Dio che cambia il cuore o della legge che non guarda l'ammalizia del cuore ma si accontenta di movimenti legali ma iniqui. A noi la risposta. Dio vi benedica.